Ciao a tutti, oggi prepareremo il ragù di verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Ingredienti sono scalogno, sedano, melanzana, carote, zucchine, basilico, olio, pomodorini, salsa di pomodoro, acqua e sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il sedano e lo scalogno ed azioniamo il bimbi per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le melanzane, le carote e le zucchine, il basilico, i pomodorini e l'olio ed azioniamo il bimbi per 5 minuti, 120 gradi, velocità 3. Adesso tritare per 10 secondi a velocità 5. Aggiungere la salsa di pomodoro. l'acqua, l'acqua, il sale ed azioniamo il bimbi per 25 minuti, 100 gradi, velocità 1 con il cestello al posto del misurino. Il ragù di verdure è pronto. Ragù di verdure. Ideale per condire la pasta. Si conserva in frigo per 3 giorni, è possibile congelarlo. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti! Grazie a tutti.